Lady Gaga cancella le ultime dieci date del suo tour in Europa a causa di forti dolori muscolari. La cantante soffre di fibromialgia, una sindrome reumatica cronica caratterizzata da dolore e rigidità muscolare diffusi. La pop star con un tweet si è scusata con i fan e ha detto di essere devastata e che ora sente il bisogno di pensare al proprio benessere, aggiungendo che i medici le hanno prescritto di riposarsi. Chi ha acquistato italiani annullati potrà richiedere un rimborso a partire dal 6 febbraio. Già a settembre Lady Gaga, che ha conquistato la ribalta mondiale nel 2008 con il suo singolo di debutto Just Dance, aveva subito un ricovero in ospedale e aveva annullato uno spettacolo a Rio de Janeiro. Tra i concerti annullati, diverse date a Parigi, Londra, Berlino, Stoccolma, Zurigo e Copenhagen, oltre a Colonia e Manchester.